buongiorno ragazzi eccoci qua in questo nuovo video allora in questo legno a parlare ancora di libri ma prima di partire con il vero argomento del video voglio mostrare questo qua tex l'ultima sfida l'ho comprata quanto un manga 4 euro e 50 in cartoliberia come al solito una volta letto lo porterò sul canale quindi per ora non ci riguarda quindi lo leviamo e lo mettiamo da parte in realtà quello che ci riguarda a noi è questo atlantide enciclopedia dello spazio ora cambiamo fotocamera un momento quindi facciamo il passaggio di fotocamera e ecco qua ma proprio sono quattro volumi atlantide nello spazio qua stanno i volumi guardate 1 2 3 e 4 sono enormi una cosa bella è questa questo è il vero libro in sé per sé con un missile stampato sopra non so se si vede perché è stata la mia ombra ecco qua guardate è un missile infatti se lo apro pure ci sono altri missili si qua è se lo apro vedete è identico e preciso a questo qua ma se dite pure il rumore è un mattone non so se lo faccia qualcuno lo fai male ecco qua di nuovo avete visto quanto cazzo è grosso quattro volumi di questa maniera quindi ora che farò farò partire un sondaggio per dirvi ancora la stessa domanda che ho fatto nel video quando mi mostrai il libro per quanto riguarda il corpo umano è sempre la stessa domanda quella che voglia di studiare quindi vai col sondaggio quindi votate per favore bene comunque questo non so quante pagine sono andiamo ad aprire insieme 237 pagine ovviamente i quattro volumi hanno hanno un argomento diverso questo parla dell'uomo sulla luna qua sta allora a sinistra la partenza del missile il moto qua aspetta questa foto qua è stato di bia sono mea sono belli guardate qua bello veramente vabbè dai ma passiamo con il secondo volume direttamente se secondo gli altri che parla editore partiamo già questa epica nebulosa mi pare questo invece parla di coriolis coriolis forse è di apple apple è questo telescopio qua questo qua è un po in mezzo penso sempre 237 pagine la rotazione del sur è doppia stella passiamo col terzo volume epica già la scenografia guardate guardate un poco icaro icarus no icaro icarus nome di un singolare asteroide del gruppo apollo caratterizzato da un'orbita molto eccentrica e inclinata di circa 23 gradi rispetto a quella terrestre con la porta no che lo porta da un lato a passare più vicino al sole di mercurio a una distanza di appena 0,19 u a circa 28 milioni di chilometri una breve descrizione questo è l'asteroide che lo porta qua 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 lo porto questo qua lo sto indicandoli col dito ovviamente un punto piccolo passiamo con l'ultimo volume direi dopo che dopo si può chiudere il video questo è l'ultimo volume voyager questo parla tutte delle sonde questo però sono 957 pagine ma alla faccia del cazzo la stella o stonehenge osservatorio megalitico cioè formato da grandi pietre pesanti ciascun fino a 50 tonnellate che sorge nel wittshire nel sud dell'inghilterra costruita circa 2000 anni orsuno no nemmeno 2000 anni fa 2000 anni orsuno vabbè quindi io chiudo qui scusate il numero forte comunque spero che questo video vi sia piaciuto e vi ricordo di votare il sondaggio che già l'ho detto quindi andatelo a ripescare se non avete votato e noi ci vediamo nel prossimo video bella grazie 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 grazie